Maria, ti piace il paintball? Cos'è il paintball? Paintball è un gioco di sparatorie. Vuoi uccidermi? Ah, no, che non voglio. La pistola di paintball contiene palline di colorante. Ah, sì? Come si gioca? È semplice. Devi colpire gli avversari prima di essere colpito. È vero, semplice. Ma è anche possibile nascondersi dietro i muri saltare oltre gli ostacoli e passare attraverso i tunnel. Interessante! Andiamo a provarlo insieme.